Devo dire che ho anche presentato il tema della Costa Vittoria, di questa nave che sta navigando da 14 giorni, sembra che ha molte persone malate, noi abbiamo dato la nostra totale indisponibilità all'attracco a Venezia. Ma non perché siamo di Lazzaroni e non sappiamo che cos'è la solidarietà. Ho detto semplicemente perché noi, sapendo che a bordo ci sono 1.400 persone, non sappiamo quanti possono essere eventualmente contagiati, che abbiano bisogno anche di cure serie, non siamo nelle condizioni di poter far sbarcare a tutte queste persone e garantire a loro in maniera seria la sanità, perché siamo in emergenza. E quindi si sappia che stiamo seguendo anche questa vicenda e la seguiamo da vicino.